La Carter proverà di nuovo ad avvicinarsi a Steffi e Finn. Ma il medico la legherà. Nuovi clamorosi colpi di scena nelle puntate americane di Beautiful. Sheila Carter, stando agli spoiler, sfiderà tutto e tutti e, pur di riavvicinarsi a suo figlio Finn, compirà un gesto audace che le si ritorcerà contro. Tuttavia, in suo aiuto accorrerà una persona del tutto inaspettata che cambierà il destino della Dark Lady. Facendo un passo indietro, ricordiamo che Sheila ha fatto credere a tutti di essere morta sbranata da un orso. Per rendere più credibile la sua dipartita, la donna è arrivata ad amputarsi un dito del piede. Ma Finn, proprio analizzando quel reperto, ha capito si trattasse dell'ennesimo blef di sua madre. Così, grazie all'intuizione del medico, Sheila sarà nuovamente ricercata. Ma lei non si perderà d'animo e deciderà arditamente di introdursi in casa di Finn e Steffi per convincerli a perdonarla e a darle un'altra occasione. La carter provocherà un blackout staccando la corrente elettrica ed entrerà nell'appartamento della coppia indisturbata. I due saranno sgomenti trovandosi di fronte la criminale. La quale proverà ad ottenere il loro perdono. Beautiful. Anticipazioni America. Bill si schiererà dalla parte di Sheila. Finn, di fronte alle suppliche di sua madre, non avrà alcuna intenzione di cedere e, per tutta risposta, la legherà, deciso a farla arrestare subito e a liberarsi di lei. Proprio in quel momento, però, accadrà qualcosa di assolutamente inaspettato che vedrà come protagonista uno storico personaggio di Beautiful. Ossia Bill Spencer. Quest'ultimo sopraggiungerà a casa Forrester e si schiererà a sorpresa dalla parte di Sheila. L'editore. Dopo essere stato rifiutato sia da Brooke che da Katie. Sarà fuori di sé e spiegherà a Steffi che la carter merita di avere un'altra chance in quanto, come lui, è rimasta isolata. La figlia di Ridge, come si evince dalle anticipazioni americane della soap opera di Canale 5, sarà incredula ascoltando le parole di Bill e non potrà credere che l'uomo, piuttosto che aiutare loro, stia perorando la causa di sua suocera. Puntate americane Beautiful. Spencer ricatterà Steffi. Bill, dunque, farà di tutto per difendere Sheila. Ma Steffi sarà determinata a far arrestare la Carter. Ancora una volta, però, la Forrester dovrà soccombere in quanto Bill la ricatterà affinché non rispedisca la Dark Lady in prigione. Spencer, infatti, dirà a Steffi di essere disposto a denunciare Taylor per il suo tentativo di omicidio. La ragazza sarà sconvolta e dovrà scegliere se mandare sua madre in carcere per assicurare finalmente alla giustizia Sheila. Cosa deciderà di fare la Forrester?